Un saluto a tutti i campanari di Youtube! Dopo un anno sono ritornato a Castellabate, provincia di Salerno. Mi trovo alla Basilica Romanica, detta Basilica Pontificia. Nome vecchio, Santa Maria de Guglia. Nome recente, Santa Maria Assunta. Abbiamo quattro campane, in do tre. E adesso ascolteremo alle 8.30. Mi faccio ascoltare la melodia Fratello Sole 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 Luna. Prima ascolteremo i rintocchi delle 8.30, 8.30. E poi dopo tre minuti suona la melodia Fratello Sole 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 Luna. Che è una melodia abbastanza bella. E adesso ci gustiamo questa sonata. Ecco, già dopo i primi giorni iniziamo subito con dei video messi in rete su Youtube. E questo è già, dopo già due giorni che sono qua, è già apparso il primo video che verrà messo in rete su Youtube. Bene, con questo video saluto sui campanari di Youtube, un buon ascolto e a presto. Qui intanto abbiamo la cappella di San Bernardino, con la sua campana. A presto. Adesso vi faccio vedere un attimo anche il panorama che si vede da quel punto lì. Ma fra poco. Ed eccoci. Adesso vi faccio vedere un po' di panorama. Che non è che si vede molto purtroppo per gli alberi che vedete qua. Vabbè. Qui abbiamo il mare, il Martireno, il nostro mare. Dove c'è tra l'altro, là in fondo, Capri. E Ischia. Più avanti c'è la costiera amalfitana. Che è una costiera del poco stupenda. Con questi colori delle case. E vabbè, anche le chiese. Soprattutto c'è il posto principale, c'è il paese sulla costiera amalfitana, è Amalfi. Dove c'è il Duomo, Sant'Andrea, ecco. E il suo famoso Duomo. Diciamo che tra tutte le chiese sulla costiera amalfitana, la principale di tutte, tra tutte le chiese, la principale è il Duomo di Amalfi. Vabbè, qui sotto abbiamo poi, vabbè, scusate, ripeto, per gli aldei. Santa Maria di Castellabate, dove c'è il santuario. Noi abbiamo, nel fondo, zona lago. E vabbè. Adesso gustiamoci la suonata. A presto. A presto. A presto. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.